Volo in ritardo. Niente prove. Inventerei qualunque scusa per godermi la freschezza di Lenore Ammorbidenti insieme a Lenore Perle. Che profumo. I feel good in Lenore. Salutiamo il nuovo anno con una serata magica. Il concerto inedito della band che ha fatto la storia del rock. A Kind of Magic. Queen in concerto. Questa sera dalle 21 e 25. Sul 9. Valentina Persia ti aspetta in uno stand-up show di straripante comicità. Tu guarda che falcata, guarda. Per 9 Comedy Club, Valentina Persia in Ma che te ridi. Giovedì 4 gennaio alle 21 e 25. Sul 9. 28, 29, arrivo! Spesso è difficile vedere chi si nasconde. Come le insidie a volte nascoste in una dieta disordinata. O i possibili effetti indesiderati degli antibiotici che possono causare disturbi intestinali. Per questo puoi provare Enterogermina. In ogni fiala si concentrano miliardi di spore di Bacillus clausi, resistenti agli antibiotici, che si attivano nell'intestino per curare quando serve diarrea e dolori addominali. Dal tuo intestino puoi prenderti cura di te. Enterogermina. La mamma di Lubasi farebbe qualsiasi cosa per farlo smettere di soffrire. Soffre perché ha un'infezione degli occhi che si chiama tracoma, che si diffonde a causa di mosche come queste. Senza cure, le sue ciglia alla fine si rigireranno all'interno degli occhi. Poi, ad ogni battito di ciglia, li graffieranno fino a farlo diventare completamente cieco, come filo spinato che gli trafigge gli occhi. I genitori di Lubasi sanno che ha bisogno di un dottore, ma non possono permettersi di pagare per le cure di cui ha così disperatamente bisogno. Tu puoi. Quando doni 5 euro al mese a Sidesavers, tu aiuti a salvare tanti altri bambini da un'agonia come questa e a risparmiare ai loro genitori il dolore di vedere i loro figli soffrire, senza poterli aiutare. Per favore, chiama l'800 62 90 80 e dona 5 euro al mese a Sidesavers adesso. Ogni mese aiuterà i nostri dottori a raggiungere i villaggi più sperduti. Curare il tracoma è così semplice, ma serve il tuo aiuto urgente per poterlo fare. Per favore, chiama l'800 62 90 80 o visita il sito donalavista.tv e dona 5 euro al mese a Sidesavers adesso e salva un bimbo o una bimba da una vita di dolore. Quando scocca l'ora della Befana, tutti la vogliono, tutti la aspettano. Sì, ma non aspettate troppo, eh? Regalate la calza Kinder! Che varietà! Con buona sorpresa, cereali, piace a tutti! E tu cosa aspetti, la Befana? Divinità, eroi, creature mostruose. Una collana di libri illustrati per riscoprire i miti classici greci e romani. Mitologia per bambini. Primo volume, solo un euro e novantanove. Emse. 8 miliardi di persone sulla Terra. 175.000 specie vegetali. Circa 308.000 diverse piante fiorite. Tutto questo dipende da un gesto minuscolo, ma indispensabile, quello delle api e degli altri impollinatori. Oggi Foxy compie il suo piccolo gesto per loro, con l'impegno di proteggere la biodiversità. Carta igienica asciuga tutto Foxy Love the Bee. Proteggiamo le api insieme. Con la tua famiglia condividi tutto, anche il raffreddore. Red Care, migliaia di prodotti a prezzi scontati. E subito a casa tua. Red Care, i tuoi farmacisti online. È dall'incontro tra la natura e il genio italiano che è nata a filtrofiore Bonomelli. Un profumo intenso, un sapore inconfondibile. E dall'incontro tra la natura e il genio italiano. Anche il benessere delle tisane e il gusto degli infusi. Ehi tu, ma lo sai qual è un modo facile, sicuro e conveniente per acquistare un'auto usata? Autopro.it Ma chi ti concede di avere 14 giorni per innamorarti della tua automobile oppure decidere di restituirla? Autopro.it Vafer croccante Qui c'è aria di festa. Avete sentito? Brinda alle novità. L'amore, ovviamente. E scatena ogni tua passione. Vedelora. C'è pronto. Altro che. Festeggia insieme a Discovery Plus. Abbonati ora. Il viaggio di Francesco Panella continua in Europa. Voi? Ti piace sì o no? Meno. Sarò severissimo. Come si dice niente parmigiano sulle mie cozze indanese? Little Big Italy. I nuovi episodi. Da lunedì 15 gennaio alle 21 e 25. Sul 9. Il viaggio di Francesco Panella